Eccomi qua con i miei quadri, le mie pancarelle, vediamo un po', qua dietro ai quadri, vediamo se riesco a... faccio da me, perché qua non mi fa le foto nessuno e io mi faccio il video, vediamo se si vede e qua sono i ritratti dei bellinzaghesi, adesso vado a far vedere i quadri a olio e sono in un altro stand, e sono questi, vediamo se vi sto a farvi vedere ok vediamo l'autunno ho fatto tutte le stagioni ok vi tiro ecco è bello grande c'è un sole che spacca bene, mi sono fatta il video, anche se non ho le fotografie, ho immortalato il momento ugualmente grazie bellinzagho lombardo grazie di tutto grazie 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 grazie